Allora, grazie, prima di tutto questa è una bella serata allegra e quindi in questa bella serata allegra io vorrei parlare di senso di responsabilità, dolore, morte. Perché sono cose che fanno parte della vita, la comicità si occupa proprio di vita e quindi anche di queste cose, serve proprio per esorcizzare i problemi della vita, la comicità. E la mia vita è cominciata 52 anni fa, perché ho 52 anni, abitavo da bambino in un paese che si chiama Salò, è una cittadina sul lago di Garda, forse qualcuno di voi la conosce, con un golfo, il golfo di Salò. Da una parte del golfo c'è la cittadina, dall'altra parte del golfo, ma ben visibile, tra i cipressi, c'è il cimitero di Salò. Ognuno degli abitanti di Salò, fin da quando nasce, sa che prima o poi finirà di là. A volte si dice che i laghi mettono tristezza, non è vero, Salò mette allegria perché è un bel posto, basta non guardare di là. Poi sotto al cimitero c'è una spiaggetta dove si può andare a prendere il sole, a abbronzarsi, quindi si può prima andare a trovare i parenti e poi ad abbronzarsi. Poi nella strada che separa il cimitero della spiaggetta c'è un chiosco che vende hamburger. Secondo alcuni la provenienza di quegli hamburger è un po' dubbia. Comunque si può prima andare a trovare i parenti, poi fare il bagno e poi mangiare un hamburger. è una giornata perfetta, senza tempi morti, più o meno. Io da bambino abitavo proprio sul lungo lago e il cimitero potevo vederlo sempre, però non mi faceva impressione perché quando sei bambino l'idea della morte è una cosa così lontana che non riesci neanche a immaginarle. Poi i miei genitori mi hanno detto che quando si muore non si muore davvero. Mi hanno detto che quando si muore si va in cielo e le stelle, mi dicevano, sono gli occhi dei morti che ci guardano. Quindi non basta l'occhio di Dio a controllare le nostre azioni. C'erano anche migliaia di occhi di morti che mi controllavano, ero terrorizzato. Per me un morto moriva davvero solo quando cadeva una stella, perché era un morto che si andava a schiantare. Perciò il 10 agosto quando cadono le stelle io non esprimevo un desiderio, ma recitavo l'eterno riposo. E abitavo da bambino al secondo piano di una casa con mio padre, mia madre e mio fratello. Invece al primo piano abitava mio zio Vasco, che non si era mai sposato e lui viveva con mia nonna Rosa, che cucinava per lui. E gli cucinava sempre uova fritte nel burro e cotolette fritte nel burro. Il sangue di mio zio era del gruppo B. Gruppo burro. Poi dopo la guerra mio zio aprì, ovviamente io ancora non c'ero, ma lui dopo la guerra aprì un piccolo negozio di mobili, poi sono nato io, lui non aveva la patente, andava a consegnare i mobili con l'appe carche, però in salita non ce la faceva. Allora quando gli capitava di vendere qualche mobile in una cittadina, un po' più in salita, io andavo con lui. Quando cominciava la salita scendevo dall'appe e cominciavo a spingere. Poi tornavo a casa e mia nonna, per ringraziarmi, mi dava la merenda. Del burro. Non ricordo molto di mio zio Vasco, però ricordo gli occhi di una persona buona e forse anche un po' sola che mi voleva bene. Finché poi un giorno, nel 79, io avevo 12 anni, a ottobre, mio zio ha avuto un infarto e purtroppo non c'è stato niente da fare per salvarlo. E quello io l'ho visto. Quando ho avuto l'infarto è stata la prima volta che ho provato appunto il dolore. Che non sai mai quando arrivo. Il dolore è l'unica cosa che è resistito alle leggi di mercato, perché non lo puoi programmare. Anche se per il nostro sistema, che è basato sulla crescita del PIL, del prodotto interno lordo, sarebbe meglio che il dolore si potesse programmare. Come per esempio, c'è il Natale, fare magari la grande giornata del dolore, con una maratona in televisione ai casi umani condotta da Barbara D'Urso, con il collegamento Paolo Brosio da Migiugore. E invece no, la caratteristica del dolore è che non sai mai quando arriva, che non lo puoi programmare. Allora quando ti arriva il dolore vai dallo psicologo, che è il gran maestro del dolore, quello che scava nel tuo portafogli e contemporaneamente scava anche nel tuo dolore. Però più scava nel portafogli, più aumenta il dolore. Quindi è un circolo vizioso e non se ne esce. Allora... Allora... Allora...